Buongiorno a tutti, oggi proveremo a risolvere insieme i quesiti della prova in valsi di matematica dell'esame di licenza media dell'anno scorso. Cominciamo a vedere il primo quesito, che mostra una foto di un edificio e chiede l'altezza, quanto può essere alto questo edificio. Molti alunni hanno mostrato perplessità di fronte a questa domanda, in realtà bastava osservare un po' la figura di riferimenti presenti, ci sono per esempio due automobili, un'automobile a circa un metro e mezzo di altezza, però se si osserva che il soffitto di una casa dista dal pavimento tra i tre metri e i quattro metri e che i piani dell'edificio compreso sul piano terra sono cinque, basta moltiplicare tre per cinque e ottenere quindici metri, oppure quattro per cinque e ottenere venti metri, quindi la risposta giusta è tra quindici e venti metri, quindi è la B. Molto semplice questo quesito. Questo invece, a mio avviso, è il quesito più semplice. Esso afferma che Paola, quando corre, consuma 60 kilocalorie per ogni chilometro percorso. Il quesito mostra una tabella che va completata. Quindi si può completare molto facilmente moltiplicando per 60 il numero di chilometri percorsi. 1 per 60 uguale a 60, 3 per 60 uguale a 180, 5 per 60 uguale a 300. A questo punto si può facilmente rispondere anche alla seconda parte del quesito. Ovviamente, poiché abbiamo sempre moltiplicato 60 per il numero di chilometri percorsi, n, la risposta giusta è la A, cioè K uguale a 60 per n. Molto facile. Per risolvere questo quesito bisogna osservare attentamente la pendenza del grafico. Sull'asse delle ordinate, in verticale, abbiamo le kilocalorie. Ogni trattino indica 30 kilocalorie, mentre sull'asse delle ascisse, in orizzontale, sono indicati i chilometri percorsi da Paola. Questo quesito, come vedete, è collegato al precedente. Nei primi 3 chilometri Paola corre, per cui la pendenza del grafico, come si può osservare, è maggiore, mentre per i successivi 5 chilometri Paola cammina, per cui consuma meno chilocalorie e la pendenza del grafico è minore. Se noi immaginiamo una linea immaginaria che va da questo punto a questo punto, ha una certa pendenza. Invece, da questo punto a questo punto, cioè quando Paola cammina, la pendenza è minore. Poiché da questo punto incomincia a correre di nuovo, evidentemente la pendenza diventerà come questa di nuovo. Per cui dovremo andare in questa direzione, e quindi i punti da aggiungere, che il quesito ci chiede di aggiungere, i punti mancanti in corrispondenza di 9 e 10. Evidentemente saranno qui, cioè 390 e in corrispondenza di 450 kilocalorie. Questo quesito, invece, mostra un istogramma e chiede di dire se tre affermazioni sono vero o false. Anche questo quesito non è di difficile risoluzione. Infatti, per rispondere vero o falso alle tre affermazioni, basta osservare l'istogramma con molta attenzione. L'istogramma riporta sull'asse delle ordinate la densità della popolazione e su quello delle ascisse i diversi paesi dell'Unione Europea. La prima frase afferma che in Romania la densità della popolazione è compresa tra 50 e 100 abitanti per chilometro quadro. Se osserviamo il rettangolino relativo alla Romania, possiamo notare che effettivamente la sua altezza è compresa tra 50 e 100. Quindi l'affermazione è vera. La seconda frase afferma che la densità della popolazione del Regno Unito è circa il doppio di quella di Malta. Osservando di nuovo l'istogramma, possiamo notare che in realtà è vero l'esatto contrario, in quanto la densità di popolazione del Regno Unito è circa la metà di quella di Malta, come potete osservare. Quindi l'affermazione è falsa. Per finire, la terza frase afferma che in due paesi la densità della popolazione è di circa 200 abitanti per chilometro quadro. Osservando l'istogramma, possiamo effettivamente constatare che l'Italia e il Lussemburgo hanno una densità di popolazione di circa 200 abitanti per chilometro quadrato. Quindi la terza affermazione è sicuramente vera. Questo quesito è collegato al precedente. Mostra sempre lo stesso istogramma e chiede cosa rappresenta la linea orizzontale con la scritta UE27. Anche questo quesito è semplicissimo. La domanda è facilmente... Cioè, non si può facilmente rispondere alla domanda, ovviamente affermando che questa linea indica la densità della popolazione nell'intera UE. Questo quesito, invece, mostra una retta di numeri dove sono ordinate due potenze di un numero razionale n. Vi ricordo che il numero razionale vuol dire una frazione. Bisogna indicare con una crocetta quali affermazioni sono vere e quali affermazioni sono false. Per risolvere questo quesito bisogna ricordare che la retta orientata dei numeri non è altro che una retta in cui è stato aggiunto un verso, l'appunto della freccia, per intenderci, e dei numeri. Il verso indica appunto verso quale direzione i numeri naturali passano dai più piccoli ai più grandi. In altre parole, se la freccia è a destra, come nel nostro caso, man mano che ci spostiamo verso destra avremo numeri via via più grandi. Sulla retta in figura il quesito posiziona due potenze, n al cubo e n al quadrato, con il primo situato a sinistra del secondo, quindi con il primo minore del secondo. Vediamo cosa succede se sostituiamo più un mezzo al posto della n. Effettivamente, qualsiasi potenza di un mezzo, effettuando qualsiasi potenza di un mezzo, è ovvio che il numeratore resta da sempre 1, che 1 a qualsiasi potenza rimane sempre 1, mentre il denominatore varierà a seconda della potenza assegnata. Nel nostro caso, elevando 2 alla terza, otteniamo 8, mentre elevando 2 alla seconda, otteniamo 4. Ma noi sappiamo che un ottavo è minore di un quarto. Per cui la prima affermazione in tabella è vera. Nella seconda affermazione in tabella è molto importante il segno della frazione. Infatti sappiamo che un numero negativo, come nel nostro caso, elevato ad un esponente dispari resterà negativo, mentre elevato ad un numero pari darà vita a un numero positivo. Nel nostro caso, elevando meno un mezzo alla terza, avremo meno un ottavo, mentre elevando meno un mezzo alla seconda, perché l'esponente è pari, avremo più un quarto. Ma è ovvio che meno un ottavo, perché è un numero negativo, sarà minore di più un quarto, che è un numero positivo. Quindi anche la seconda affermazione è vera. Lo stesso discorso varrà per la quarta affermazione, perché è un numero negativo. Ecco. Quindi l'unica affermazione che risulta falsa è la terza. Infatti più tre mezzi alla terza fa più 27 ottavi, mentre più tre mezzi alla seconda fa più 9 quarti. Ma più 27 ottavi è maggiore di più 9 quarti. Quindi è falsa. Questo è un altro quesito molto semplice da risolvere. mostra due assi cartesiani con dei grafici. Il quesito chiede di osservare la figura e innanzitutto di disegnare la retta S perpendicolare alla retta T e passante per S. Quindi è molto semplice, basta fare... Il disegno ci aiuta posizionando sul grafico anche una griglia quadrettata, quindi è molto semplice. È chiaro che la retta dovrà passare per il punto S e dovrà formare con la retta T un angolo retto di 90 gradi. Come si osserva dalla figura a destra, la retta poi va a intercettare il segmento AB nel punto di coordinate 4, 4, cioè qui. Quindi la risposta al quesito B, qui, il punto R di intersezione tra la retta S e il segmento AB, avrà coordinato evidentemente 4, 4. In questo quesito abbiamo di nuovo degli assi cartesiani, un grafico in cui viene illustrato l'andamento della carica di una batteria ricaricabile di un computer portatile in quattro diverse condizioni di temperatura, a 5 gradi, a 25 gradi centigradi, a 30 gradi centigradi e a 40 gradi centigradi. Sull'asse delle ordinate è rappresentata la capacità residua della batteria, mentre sull'asse delle ascisse il tempo in mesi. Ad ogni bimestre corrisponde una linea verticale. Ovviamente l'andamento della carica residua della batteria è rappresentata da una curva che scende man mano che il tempo passa, solo che la velocità con cui la batteria si degrada sarà maggiore all'aumentare della temperatura dell'ambiente esterno. Più aumenta la temperatura esterna, maggiore sarà la pendenza della curva. Vediamo ora se le quattro affermazioni in tabella sono vere o false. La prima afferma che una batteria degrada meno velocemente se mantenuta a temperature più basse. E se ne osserviamo il grafico è proprio così, infatti la pendenza della curva a 5 gradi centigradi è minore rispetto alle altre. L'affermazione è vera. La seconda affermazione afferma che dopo 12 mesi, qualunque sia la temperatura, la capacità rimasta di una batteria è meno dell'80%. Evidentemente l'affermazione è falsa, perché dopo 12 mesi in realtà la batteria con un ambiente esterno di 5 gradi mantiene una capacità residua superiore all'80%. La terza affermazione afferma che alla temperatura di 40 gradi centigradi la capacità di una batteria diminuisce circa del 20% nei primi due mesi. E effettivamente è così. Infatti nella prima curva a sinistra la capacità passa nel primo bimestre dal 100% all'80%, cioè diminuisce proprio del 20%. Quindi l'affermazione è vera. La quarta affermazione invece afferma che alla temperatura di 25 gradi, quindi qui, la capacità di una batteria diminuisce dall'80% al 60% in circa tre mesi. Ma se noi vediamo, dall'80% al 60% intercorrono, si passa da sei mesi a dodici mesi, quindi sono sei mesi. Quindi l'affermazione è falsa.